Dalle prime ore del mattino i carabinieri stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Torino su richiesta dalla locale Procura della Repubblica per associazione per delinquere, finalizzata dalla commissione di furti in abitazione, recettazione, detenzione, porte legale di armi e strumenti atti a offendere nei confronti di una decina di persone, albanesi e italiani. I componenti del gruppo criminale, armati di coltelli e bastoni, dopo aver rotto le taparelle o le porte d'ingresso, saccheggiavano ville e abitazioni isolate e sorprendendole talvolta gli occupanti nel sonno, depredando qualunque cosa fosse presente in casa. 17 episodi delettuosi contestati dai carabinieri di Rivoli alla banda è avvenuto nella provincia di Torino, nonché in quelle di Biella, Novara e Perugia. Grazie a tutti.